Buonasera e ben trovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura alla cronaca. Incendio ieri sera all'azienda Simgreen in via Arturo Chiari ad Arezzo. L'incendio si è sviluppato dopo l'orario di cena all'interno di un capannone dove vengono stoccati rifiuti elettronici per le attività di trattamento e smaltimento. Vediamo il servizio. Erano circa le 22 della notte scorsa quando una densa colonna di fumo nero si è alzata da uno dei capannoni della zona industriale tra il raccordo e i via grandi. Un incendio è divampato all'interno di un'azienda che si occupa di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti elettronici separata della Simgreen in via Arturo Chiari. Sul posto varie squadre dei vigili del fuoco e un'ambulanza della misericordia di Arezzo a supporto dei pompieri e aretini oltre che addetti alla sicurezza privata. I pompieri hanno spento l'incendio e contenuto le fiamme prima che si propagassero agli ambienti circostanti. Ad andare a fuoco all'improvviso probabilmente i rifiuti all'interno della stessa struttura. In corso accertamenti per capire le cause del rogo. L'azienda in quel momento pare fosse del tutto chiusa. Nessuno comunque è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici ARPAT e il personale dell'Asla Toscana Sud-Est. Ancora cronaca. Un ciclista è rimasto ferito in seguito ad una caduta mentre si trovava in una zona impervia in località Prato alla Penna, nel comune di Poppi. Qui sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo che hanno operato insieme al personale sanitario per recuperarlo. Per raggiungerlo è stato fatto volare l'elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha calato gli soccorritori che hanno operato insieme ai sanitari. Hanno immobilizzato il ferito, lo hanno recuperato dall'elicottero e trasportato all'ospedale di Arezzo. C'è stato anche un incidente in moto all'alba di questa mattina. È avvenuto intorno alle 6 lungo la strada provinciale 19 nei pressi di Lucignano. È stato attivato il 118 e sul posto sono intervenuti l'ambulanza infermeristica della Misericordia di Monte San Savino e le forze dell'ordine. Un ragazzo di 22 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Ed è accusato di aver borseggiato una donna a Forte dei Marmi. Un 48enne a retino è stato denunciato dagli agenti del commissariato di zona che dopo accurate indagini sono arrivati all'identificazione dell'uomo. L'episodio risale al scorso maggio quando una turista fiorentina che stava percorrendo in bicicletta via Vittorio Veneto nella cittadina della Versilia si era vista sottrarre la borsa che aveva sistemato nel cestello della sua bicicletta. Gli investigatori hanno ricostruito l'accaduto e grazie alle testimonianze e anche al sistema di videosorveglianza sono riusciti a individuare il presunto autore. Si tratta appunto di un italiano residente ad Arezzo pluri pregiudicato per furti. Oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria nei suoi confronti il questore ha emesso il foglio di via obbligatorio dalla Versilia per tre anni. E adesso spostiamoci in Valdarno dopo l'ordinanza del sindaco di San Giovanni Valdarno Vadi per lo sgombero dell'ex hotel River. Ancora è tutto fermo. Vediamo. Nacciano hotelli, botte alle porte. E come si fa? Hanno spaccato tutto. Una persona sola ha spaccato un hotel. Ancora episodi violenti e ancora una volta si accendono le polemiche sull'ex hotel River di San Giovanni Valdarno. Fa schifo, mi deve credere. Anche stanotte hanno demolito delle porte. L'ultima furiosa lite ha portato a tre denunce, due uomini e una donna, tutti occupanti e abusivi dell'edificio. L'immobile ha sottoposto a procedura esecutiva all'istituto di vendite giudiziarie del tribunale di Arezzo. E all'asta ma non è venduta. Ha capito? Quindi è un problema questo. Ormai un mese fa l'ordinanza di sgombero per motivi di gravi carenze igienico-sanitarie firmata dalla sindaca Valentina Vadi, ma ancora nulla sembra essere cambiato. Tanti sono abusivi. Ma non fa niente, no tutti, ora ne rimasti due o tre che vanno via, ma sono tutti abusivi. Ora saremo costretti a staccare la luce, l'acqua, ogni cosa. Ma non escono la gente. C'è bisogno di un intervento delle forze dell'ordine. Deve venire le forze dell'ordine, ma non vengano. C'è anche chi da tempo vive all'interno della struttura fino a qualche mese fa in una situazione borderline e che adesso vive nella paura. Non è più fattibile stare qui. Anche stanotte, dalle tre in poi, sono guai. Anche per loro adesso c'è l'obbligo di lasciare la struttura. Sarebbero già stati attivati i servizi sociali, come fa sapere la prima cittadina. Io non chiedo chissà cosa. Un posto dove mettermi. Resta infine la rabbia e la preoccupazione dei cittadini. C'è bisogno proprio di un intervento delle forze dell'ordine, di andare a controllare lì dietro per vedere. Però noi abbiamo paura con i garage. L'altro giorno l'amico nostro lì lo stesso ha messo il catenaccio. E mica possiamo stare così. E torniamo anche a parlare dell'ex lebole perché il comune di Arezzo invita la proprietà a mettere in campo una serie di interventi per la sicurezza dell'area. Vediamo il servizio. 60 giorni per mettere in campo una serie di interventi per la sicurezza dell'area ex lebole. E' il comune di Arezzo ad invitare la proprietà ad intervenire dopo i tre sopralluoghi svolti nei giorni scorsi da Polizia Municipale, ASL e Ufficio edilizia. La zona dismessa è ormai da anni in attesa di riqualificazione. Ad inizio agosto all'interno del perimetro della ex lebole si era verificato l'ennesimo episodio di cronaca. Una donna di 38 anni aveva riportato gravi ustioni per un ritorno di fiamma sprigionato da un getto di alcol etilico. La donna pare volesse accendere un fuoco. Soccorsa fu portata in condizioni serie al centro grandi uscionanti di Pisa. Una vicenda che aveva destato scalpore e portato il sindaco ad emettere le tre ordinanze. Adesso il comune indica la proprietà tre step nella comunicazione, dunque la chiusura della recensione, eliminando così possibili ingressi dai quali passano gli estrani, l'eliminazione delle strepaglie ed infine la verifica delle strutture. Un intervento ritenuto adesso dall'amministrazione comunale non più rinviabile. La messa in sicurezza a cura dei privati dovrebbe concludersi nel giro di due mesi con i primi interventi a stretto giro. E adesso occupiamoci di giostra perché è pronto il piano di sicurezza in vista della giostra del Saracino in concomitanza con l'edizione di settembre dell'Antiquaria. Per agevolare i soccorsi e alleggerire il lavoro della centrale 118 ci sarà un'unità mobile al Prato che servirà per il coordinamento dei soccorsi. Pronti con il piano sicurezza? La giostra di settembre forse è quella un pochino anche più sentita da parte degli aretini e allora bisogna essere ancora più attenti. Sì, oltre che essere più sentita da parte degli aretini è anche quella che un attimino ha un afflusso maggiore non solo in piazza perché sappiamo benissimo che la capienza è quella ma nel contorno della manifestazione, quindi il corteo e il centro storico perché è in concomitanza con la fiera dell'Antiquariato. Quindi chiaramente l'afflusso di turisti è più elevato e quindi anche il nostro livello di assistenza si deve adeguare al tipo di evento e alla concomitanza con la fiera stessa. Tant'è vero che abbiamo incrementato non solo all'evento in piazza circoscritto alla piazza Vasari ma anche a tutto quello che concerne il corteo e il pubblico presenti nelle varie fasi del corteggio storico. Infatti abbiamo due ambulanze che sono dedicate e predisposte lungo il corteo e un'ambulanza al seguito in modo da garantire un'adeguata assistenza non solo ai spettatori e al pubblico ma ci dobbiamo ricordare che il corteo avviene in un centro abitato quindi dobbiamo garantire un intervento rapido e anche eventuali problematiche per i residenti. Abbiamo un'unità mobile di coordinamento che non è altro che una centrale mobile che verrà posizionata su Alprato nei pressi della casina dove all'interno ci saranno tecnici e operatori nostri che gestiranno tutti gli interventi dal punto di vista amministrativo e di sala operativa tutti gli interventi del corteo e della piazza. Quindi la sala operativa sarà sgravata di questo lavoro? Sì, la sala operativa sarà sgravata di questo lavoro in modo da garantire comunque un adeguato standard di assistenza a tutto il resto della provincia a tutti gli eventi che accadono nel resto della provincia. Una collaborazione preziosa, consolidata e continua quella che da anni si è instaurata con l'associazione DOG e l'amministrazione spiega l'assessore Federico Scapecchi e che ha portato a risultati importanti la presenza degli operatori di strada sia nei luoghi della movida cittadina sia nei punti maggiormente critici per situazioni di disagio è un presidio che combina sicurezza, supporto, ascolto e informazione riconoscibile sempre più accolto grazie alle capacità di entrare in contatto e di instaurare un dialogo. Stiamo facendo un lavoro importante insieme spiega ancora l'assessore che proseguirà anche in questi giorni di festa per la nostra città e che vedranno gli operatori muoversi tra i quartieri per monitorare il divertimento dei più giovani pronti ad intervenire nel modo tutto speciale che li caratterizza qualora ci fosse necessità. A fare la differenza ci sono i peer educator, ovvero quei ragazzi capaci di dialogare con i loro coetanei nella maniera più diretta circa la consapevolezza del divertimento sano e che sempre in maggior numero si avvicinano all'associazione. E il servizio bus quotidiano che collega ogni giorno Arezzo, Rimini e Riccione proseguirà fino al prossimo 8 settembre. Vediamo il servizio. Adriatico o Tirreno, poco importa, le due coste sono infatti raggiungibili anche con i mezzi pubblici grazie a Marebus che da quest'anno allarga il servizio di collegamento dall'entroterra al mare anche alla riviera Romagnola. Un nuovo servizio bus dunque per collegare ogni giorno Arezzo, Rimini e Riccione nato dalla collaborazione tra Autolinea Toscana e TM che proseguirà per tutta l'estate sino a metà di settembre. È un servizio pensato per migliorare l'accessibilità a una delle mete turistiche più amate. Sempre in vigore e nello stesso periodo anche il servizio di collegamento con la Maremma per raggiungere con i mezzi pubblici le più belle spiagge di Castiglione della Pescaia, Pollonica, Marina di Grosseto e Principina Mare. Lungo il percorso sono previste anche alcune fermate strategiche per consentire l'imbarco di passeggeri non residenti ad Arezzo ma che abitano in altre aree urbane. Per informazioni e acquisto biglietti è possibile consultare il sito TM nella sezione Linee Mare. Per ulteriori informazioni invece è possibile rivolgersi al servizio Infomobilità e chiamando il numero 800-100-403 da telefono fisso oppure il numero 199-122-344 da cellulare. Parliamo di Sanità. Un saturimetro per il reparto di nefrologia e dialisi a donarlo stamani al reparto diretto dal dottor Conti è stata l'associazione PB73ODV un dispositivo che ha caratteristiche e funzionalità aggiuntive rispetto ai dispositivi comuni utilizzati per misurare la quantità di ossigeno che si trovano in commercio. Questa è la prima delle donazioni che abbiamo in programma per la nefrologia spiega Maurizio Barsotti presidente dell'associazione. Presto torneremo qui per una seconda donazione stiamo infatti già raccogliendo il denaro necessario per acquistare una poltrona da destinare al reparto del dottor Conti. E nuovi alloggi di edilizia popolare residenziale in località Tegoleto nel comune di Civitella in Valdichiana la realizzazione ha unito Arezzo Casa e il comune di Civitella in Valdichiana che insieme hanno condotto un complesso intervento di acquisto e successivo completamento e recupero di un edificio che inserito nel comparto dei piani di edilizia economica popolare in via delle signorie giaceva da anni stato di abbandono a causa del fallimento della cooperativa costruttrice. La consegna delle chiavi è prevista per lunedì 23 settembre in occasione del festival a C20 il futuro dell'abitare proposto per festeggiare il ventesimo anno di attività proprio di Arezzo Casa. E prenderà il via martedì 3 settembre il servizio di trasporto solidale organizzato dal comune di Prato Vecchio Stia in collaborazione con la locale sezione dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri che collegherà le frazioni di Lonnano e Papiano ai centri di Prato Vecchio e Stia. Si tratta di un servizio gratuito attivo nei giorni di martedì e mercoledì e rivolto a tutte le persone impossibilitate a raggiungere con mezzi propri la Casa della Salute, gli uffici comunali e le attività commerciali del Paese. La navetta partirà alle ore 9 e alle ore 12 ci sarà la corsa di ritorno. E mancano meno di tre settimane alla riapertura delle scuole in Toscana e il trasporto ferroviario a Toscano insieme alla ferrovia italiana sono pronti a dare il benvenuto al nuovo anno scolastico con abbonamenti invariati di prezzo rispetto al 2023 pensati per tutte le esigenze di viaggio. È già attiva la campagna 2024-2025 per sottoscrivere gli abbonamenti settimanali, mensili, trimestrali e 10 mesi oppure annuali sulle linee ferroviarie Arezzo, Stia e Arezzo e anche Sinalunga. E adesso andiamo in Val Tiberina perché apre sabato 31 agosto il nuovo ristorante McDonald's di Sansepolcro situato in via Senese a Retina. Quattro McDonald's della provincia di Arezzo hanno portato anche a tre nuove assunzioni, un team di lavoro che proviene per la maggior parte dal comune di Sansepolcro e dall'area limitrofa. Il ristorante è alla ricerca di ulteriori risorse e sul sito web di McDonald's ci sono tutte le informazioni e le modalità per candidarsi. E adesso parliamo di spettacolo perché c'è stato un bel concerto con un bel successo in piazza Masaccio per il tributo a Franco Battiato con Simone Cristicchi e Amara. Vediamo. Un viaggio musicale alla ricerca dell'essenza nella confusione della modernità, un rapimento mistico e sensuale. È stato così un grande omaggio al maestro Franco Battiato quello di Simone Cristicchi e Amara che in una piazza Masaccio Sold Out hanno proposto lo spettacolo Torneremo Ancora. Nasce da una visione comune ovviamente di vita ma soprattutto dall'amore devoto per questo uomo che oltre ad essere un grande artista è stato veramente un maestro di vita e quindi ci siamo trovati su questa visione e abbiamo deciso di portare in scena la sua parte più elevata che ha lasciato così in scrittura nelle canzoni. Un'esperienza molto profonda questo concerto che coinvolge il pubblico in una sorta di cerimoniale liturgico. Si va a toccare insomma la profondità, la sacralità della musica qui. Non è un'intenzione di intrattenere il pubblico ma di renderlo partecipe di qualcosa di unico. Ecco perché a questo concerto poi le persone ritornano anche più volte a vederlo e quindi la difficoltà sta nel riuscire a trasmettere poi questi messaggi così profondi che Battiato ci ha lasciato in eredità e che noi con grande umiltà cerchiamo di portare avanti. Ancora appuntamenti culturali nella nostra provincia. Andiamo a Lucignano dove domani si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna di giovedì sere d'estate a Lucignano, il cartellone di eventi che ha animato uno dei borghi più belli d'Italia con tutta una stagione estiva. La serata conclusiva promette divertimento per tutta la famiglia con il Lucipark lungo le vie del Borgo e in piazza San Francesco. Particolare attenzione rivolta ai più piccoli grazie ad una serie di attività ludiche, artisti, trampolieri, gonfiabili, laboratori, giochi in piazza delle logge, spettacolo da qui a lì a cura della scuola di circo sotto sopra di Arezzo e ci sarà anche uno spettacolo di fuoco per tutti i presenti. A disposizione è una rinca offerta di street food. Il castello di Valenzano ospita invece venerdì un concerto dove il suono è quello delle campane di cristallo e del gong. Un concerto che in realtà è un bagno sonoro guidato da Silvana Casazza di voce d'arpa. Un momento quello del bagno sonoro che vedrà partecipanti sdraiati su di un tappetino illuminati dalla luce di candele circondati dalla natura per una esperienza rilassante e rigenerante per armonizzare profondamente il corpo, svuotare la mente e respirare l'infinito. Il bagno sonoro in caso di maltempo si sposterà all'interno del castello nel salone delle feste. Il concerto inizierà alle ore 21. E adesso passiamo alla pagina sportiva. Parliamo dell'Arezzo Calcio che comunica di aver acquistato in prestito con diritto di riscatto le prestazioni sportive di Roberto Ognunseie dal Cesena. Classe 1995, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. Ognunseie è un centravanti di comprovata affidabilità e esperienza come attestano le oltre 200 presenze maturate in Serie C, competizione nella quale ha saputo distinguersi realizzando più di 50 gol nelle sue esperienze con Prato, Olbia, Modena e Foggia e appunto anche il Cesena. Da segnalare anche la sua parentesi al Cittadella in Serie B dove ha contribuito al raggiungimento dei play-off da parte della formazione veneta collezionando 40 presenze nella Serie Cadetta. Le sue straordinarie doti fisiche unite alla capacità di essere decisivo in area di rigore lo rendono un elemento prezioso all'interno della rosa disposizione di Mr. Troise che potrà contare su un ulteriore giocatore di valore. L'altro arrivo è quello di Camillo Tavernelli, classe 1995 Tifernate che ha mosso i primi passi nella vicina Sansepolcro per poi fare il salto nei professionisti con il Gubbio. In carriera è stato utilizzato in tutti i ruoli d'attacco tranne la prima punta. Il Cittadella dal 2020 gli ha dato modo di giocare in B per due stagioni consecutive 50 presenze totali, 17 da titolare e 4 gol. Successivamente si è trasferito al Novara e alla Triestina in C e poi a Caserta dove nell'ultimo campionato ha dato un'impennata al suo rendimento affermato con l'Arezzo per due anni. E occupiamoci anche della CF Arezzo che comunica che a seguito della richiesta inoltrata alla Lega di Serie B femminile in accordo con la società Ellas Verona l'esordio casalingo nel campionato di Serie B 2024-2025 è stato anticipato a sabato 31 agosto evitando così la concomitanza con la giostra del Saracino. La gara si svolgerà allo stadio comunale Città di Arezzo e avrà il suo calcio d'inizio alle ore 16. E in chiusura parliamo di basket perché è in corso la seconda settimana di lavoro per l'ABC Servizi Sbac e agli ordini dello staff tecnico capeggiato dal coach Fioravanti sta sudando sul parquet del Palasport Estra. Gli Amaranto saranno presto impegnati anche dalle prime amichevoli dove la squadra avrà l'opportunità di verificare quanto ha preso nella prima parte di questa preparazione. La prima uscita è in programma per mercoledì 4 settembre alle ore 20.30 al Palasport Estra con il Perugia Basket, formazione che milita in Serie C nel Gerone Umbro Marchigiano. Sabato 7 settembre invece l'ABC Servizi affronterà in trasferta il Golfo Piombino compagine che milita in Serie B nazionale. Venerdì 13 altro confronto esterno a Ponte San Giovanni contro il Val di Cepo avversaria di pari categoria ma inserita nel raggruppamento Umbria Marche Abruzzo della Serie B. Ultimi due impegni al Palasport Estra mercoledì 18 settembre alle 20.30 contro la Dux Sansepolcro di Serie C e sabato 21 alle 17.30 contro Palestrina, altra formazione di Serie B nel weekend che precede l'esordio in campionato della BC Servizi che è fissato per domenica 29 settembre alle 18 sul campo della Menz Sana Siena. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una piacevole serata. Arrivederci. Arrivederci.